Noi come governo della regione abbiamo stimolato questa ripresa anche al tempo in cui la crisi è stata più profonda e segnalerei anche il fatto che solo in questa provincia siamo ripartiti e in questa regione. Le altre regioni d'Italia invece sono ancora tutte ferme. Siamo ripartiti perché abbiamo stimolato l'economia, abbiamo portato il prodotto interno lordo a crescere a più del 5% in 5 anni e conseguentemente anche i consumi e l'acquisto delle case sono ripartiti. Possiamo fare di più e ci stiamo impegnando per fare di più perché abbiamo pensato ad una nuova strategia di regia sia compatibile con la crescita ma soprattutto con il rispetto dell'ambiente. Vogliamo chiaramente delle case che siano ecocompatibili, delle ristrutturazioni che abbiamo stimolato con incentivi alle giovani coppie per poter acquistare e ristrutturare le case ma soprattutto nei prossimi anni grazie alla forza economica di questo territorio che abbiamo stimolato con interventi di grandi investimenti dall'estero a Bologna avremo sicuramente una ripartenza del mercato. Ora il punto è che non vogliamo un mercato deregolamentato ma vogliamo un mercato che sia sempre migliore che offra dei servizi alla persona all'altezza e quindi col mercato immobiliare possiamo fare ragionamenti che sono di sviluppo e di crescita. Sulla burocrazia è un problema che noi abbiamo già rivendicato, cercato di snellire, si può fare di più, bisognerà ragionare di più con il governo. Adesso c'è un nuovo governo con il quale forse c'è più sensibilità rispetto a questi temi, rispetto a che in passato. cercheremo di essere più stimolanti da questo punto di vista.